Ben ritrovati su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca Blitz nel fortino dello spaccio a Marsala. La polizia ha rinvenuto armi e droga. Vediamo il servizio. Blitz a sorpresa degli agenti della squadra mobile della questura di Trapani e del commissariato di Marsala in alcuni palazzi della contrada Amabilina alla periferia marsalese. Una sorta di zona franca in cui è stato messo su un fortino dello spaccio, decine le case e i box perquisiti alla ricerca di stupefacenti e armi. A supporto delle operazioni i reparti prevenzione crimine della Sicilia occidentale e della Campania, oltre al personale del reparto mobile di Palermo e alle unità cinofile. Per un controllo della zona dall'alto anche un elicottero del reparto volo di Palermo che ha garantito la sicurezza degli operatori impegnati nelle delicate operazioni di perquisizione. Al termine delle attività sono stati sequestrati 370 grammi di cocaina, più di 2 kg di marijuana, due pistole e numerose munizioni di vario calibro. Trovati anche monitor collegati a videocamere per controllare eventuali ingressi delle forze dell'ordine sia all'interno che all'esterno di uno stabile. Una turista finlandese di 27 anni ha denunciato di essere stata violentata la scorsa notte a Trapani da quattro ragazzi. Si tratterebbe di giovani anche loro in vacanza in Sicilia. La vittima ha raccontato ai carabinieri di avere conosciuto gli autori della presunta violenza in un ristorante e di essere poi rimasta da sola con loro mentre le sue amiche sono rientrate al residence in cui alloggiavano. La 27enne si è poi recata presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani e poi ha denunciato tutto ai carabinieri. Ed ora invece una notizia da Salemi, continuiamo a parlare di cronaca. Prima le fiamme e il fumo nero e poi diverse esplosioni che si sono sentite in tutta la città di Salemi, siamo in provincia di Trapani. Per cause che sono ancora da accertare un incendio si è sviluppato in un negozio di ferramenta di via Mazzara. Prima che le fiamme si propagassero, gli abitanti della palazzina dove a pian terreno si trova il negozio sono riusciti ad abbandonare le proprie case così come i residenti delle palazzine vicine. Le fiamme hanno causato lo scoppio di alcune bombole del gas che si trovavano in un deposito nel cortile esterno del negozio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, corpo forestale, carabinieri e polizia municipale. Ed ora invece una notizia da Palermo dove nel quartiere Brancaccio è stato arrestato uno spacciatore il quale percepiva anche il reddito di cittadinanza. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi hanno tratto in arresto un quarantenne palermitano già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato una perquisizione all'indagato nel quartiere Brancaccio rinvenendo oltre 150 dosi tra crack e cocaina e quasi 400 euro in banconote di piccolo taglio. L'arrestato su disposizione del pubblico ministero è stato condotto presso la casa circondariale competente in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. La droga recuperata è stata sequestrata e sarà smistata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche ponderali e qualitative. L'indagato, che risulta percettore del reddito di cittadinanza, è stato segnalato all'Inps per la sospensione del beneficio. L'arresto è stato convalidato dal GIP che ha sottoposto l'uomo alla misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo. Furto con spaccata in una tabaccheria di Palermo in via Pindemonte ad angolo con via P3. La scorsa notte quattro ladri usando un'auto come ariete hanno sfondato la sala cinesca dell'esercizio commerciale per poi entrare all'interno e rubare stecche di sigarette e gratta ai vinci. Qualcuno, svegliato dal forte boato, ha allertato la polizia con gli agenti che in pochi minuti hanno circondato la zona. La fuga dei malviventi ha innescato un inseguimento che si è poi concluso quando i ladri hanno abbandonato i mezzi con i quali erano giunti presso la tabaccheria per proseguire la fuga a piedi, facendo perdere le loro tracce. Ci spostiamo virtualmente a Paceco dove è stato effettuato un sequestro beni per oltre 300 mila euro nei confronti di un pregiudicato. Tutti i dettagli nel servizio. I finanzieri del gruppo di Trapani e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trapani hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro d'urgenza di immobili, veicoli, conti correnti e quote sociali nei confronti di un soggetto residente in Italia. Le indagini dirette dall'autorità giudiziaria hanno riguardato un uomo gravato da plurimi precedenti penali, il quale alla luce della condotta e del tenore di vita, in particolare dell'illecita attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e del contrabbando di tabacco lavorato estero, nonché di un'indole particolarmente violenta e socialmente pericolosa, avendo commesso gravissimi delitti contro la persona, deve ritenersi che viva abitualmente con i proventi di attività delituose. Gli accertamenti economico-finanziali e patrimoniali svolti dal gruppo della Guardia di Finanza di Trapani, corroborati dagli approfondimenti e dalle risultanze investigative dei militari dell'arma dei carabinieri, hanno consentito di porre in evidenza la sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati dal nucleo familiare dell'uomo e gli incrementi patrimoniali acquisiti nel periodo di riferimento, nonché la disponibilità indiretta di beni immobili e mobili, per i quali è possibile presumere che, seppur formalmente intestati a persone facenti parte del proprio nucleo familiare, rientrino nella sfera dei propri interessi economici. Il Tribunale di Trapani, condividendo la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dei procuratori della Repubblica di Trapani e di Palermo, ha emesso un decreto d'urgenza, ai sensi della vigente normativa antimafia, con il quale ha disposto il sequestro di due immobili ubicati a Paceco, 11 veicoli, due conti correnti e quote sociali, per un valore complessivo di oltre 300 mila euro. Da Paceco a Catania un uomo ruba due valigie all'aeroporto ma viene subito beccato dai carabinieri. I carabinieri della stazione aeroporto di Catania a Fontana Rossa hanno denunciato un 49enne di Licata gravemente indiziato di furto aggravato. Una 61enne di Avola si è presentata presso gli uffici della stazione carabinieri aeroportuale catanese per denunciare il furto di due trolley avvenuto pochi minuti prima davanti l'ingresso del terminal arrivi. La donna, di rientro da un viaggio con il marito, stava attendendo l'arrivo di un parente, riparandosi dal sole cocente sotto una delle pensiline di una fermata degli autobus, allontanandosi solo per qualche istante perché chiamata dal coniuge e lasciando così custodite le valigie. Purtroppo per lei la scena non era passata inosservata un'automobilista, anche egli in attesa, il quale fulminiamente si era appropriato di esse approfittando del suo allontanamento. La quasi contestuale constatazione del furto patito, con la conseguente immediata denuncia ai militari, ha però permesso a quest'ultimi di visionare i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'aerostazione consentendo loro in tal modo l'individuazione del ladro e la sua successiva localizzazione, proprio mentre si trovava ancora nei parcheggi dell'aeroporto. Grande è stato lo stupore del 49enne quando i militari gli hanno chiesto il documento di riconoscimento, ma più grande ancora è stato invece il suo imbarazzo quando, aprendo il portabagagli dell'autovettura, i militari hanno trovato le due valigie trafugate alla coppia di coniugi, i quali hanno poi ringraziato i carabinieri per la loro restituzione a tempo di record. Restiamo nel Catanese e continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Sant'Agata Libattiati, unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno deferito in stato di libertà un 38enne catanese sorpreso a San Giovanni la Punta nella flagranza del reato di furto aggravato. Nella tarda serata è arrivata la segnalazione di un furto di materiale edile in un cantiere di via Duca degli Abruzzi. I militari, giunti poco dopo sul posto, hanno rilevato la presenza di un furgone bianco e di due uomini i quali, alla loro vista, si sono immediatamente dati alla fuga. Nella circostanza uno dei due è riuscito a scappare, mentre l'altro è stato subito bloccato dai carabinieri che hanno constatato come i due avessero appena asportato da quel cantiere 37 pedane di un ponteggio edile metallico caricandole sul loro furgone. Ed ora invece una notizia da Gibellina. I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un pensionato del posto, classe 1960, per il reato di furto aggravato. I militari dell'arma, unitamente al personale tecnico specializzato della società di distribuzione di energia elettrica, hanno proceduto al controllo delle forniture di alcune abitazioni. I carabinieri all'interno della casa di un pensionato hanno trovato un allaccio abusivo alla rete pubblica tramite manomissione del contatore, presumibilmente ingegnato dall'uomo, per un furto di energia ancora in corso di quantificazione. L'arresto è stato convalidato senza l'emissione di alcuna misura nei suoi confronti. Continuiamo a parlare di cronaca, ci spostiamo virtualmente a Siracusa. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siracusa e della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato quarantenne. L'uomo, in sosta con la sua autovettura, alla vista dei militari è sceso dalla macchina e ha tentato di darsi alla fuga lanciando un pacchetto di sigarette. I militari lo hanno bloccato e hanno recuperato il pacchetto di cui si era disfatto trovandovi all'interno 80 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato ovviamente sequestrato mentre l'uomo è stato tratto in arresto. Ed ora parliamo di emergenza incendi perché la Sicilia è prima in una speciale classifica tutt'altro che piacevole. 6534 interventi dei vigili del fuoco dal 15 giugno al 21 luglio, quindi poco più di un mese. Questo è il dato che pone la Sicilia in cima, dicevamo, a questa speciale classifica delle regioni italiane più colpite dagli incendi nelle aree boschive. Le altre regioni con il maggior numero di roghi sono state la Puglia, il Lazio, la Calabria, la Campania e la Toscana. Si tratta, come è facile intuire, di una vera e propria emergenza, quella degli incendi che interessa l'intera Sicilia e non soltanto alcune aree dell'isola. Noi giornalmente ci ritroviamo a parlare e a definirlo un vero e proprio bollettino di guerra con notizie di interventi dei vigili del fuoco che arrivano come detto da ogni parte della Sicilia. Quindi primo posto per la nostra isola purtroppo in questa speciale classifica delle regioni italiane più colpite dagli incendi. Ed ora il Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 5.097 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 27.259 tamponi processati. Il 18,7% e la Sicilia è al settimo posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 165.600 i guariti, invece 3.854. Purtroppo si registrano altre 20 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 11.525. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.500, 14 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ci sono invece 50 persone, lo stesso numero del giorno prima. Per quanto riguarda i dati a livello provinciale, stavolta è Messina, la provincia, con il maggior numero di nuovi casi, 1.188. Poi Palermo con 1.152. Quindi Catania con 1.800 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Questi quindi i numeri dell'ultimo bollettino Covid che riguarda la Sicilia. Ed ora invece parliamo di un'indagine di Goletta Verde. 26 punti campionati sulle coste siciliane e in 10 di questi 26 punti ci sono tracce di forte inquinamento delle acque. Vediamo il servizio. Sono stati 26 i punti campionati sulle coste siciliane dai volontari dei circoli di Lega Ambiente tra il 28 giugno e l'8 luglio con Goletta Verde per monitorare le qualità delle acque. Del totale dei punti di prelievo 16 sono risultati entro i limiti di legge mentre 10 punti, il 38%, presentano serie criticità rispetto a una scarsa e inefficiente depurazione. Sono stati prelevati e analizzati un punto nella provincia di Messina, 10 nella provincia di Palermo, 4 punti nel Trapanese, 3 nell'Agrigentino, altrettanti su Catania, 2 punti rispettivamente su Caltanissetta e su Siracusa, 1 su Ragusa. 9 punti sono stati campionati presso le foci di fiumi e punti critici della costa mentre restanti 17 sono stati campionati a mare. Nello specifico i punti risultati oltre i limiti sono 4 fortemente inquinati nella provincia di Palermo, il punto presso lo sbocco dello scarico in via Diaz, il punto a Terrasini, lungomare Peppino Impastato, presso la spiaggia della Praiola, il punto tra Terrasini e Trappeto, località Contrada San Cataldo, presso la foce del torrente Nocella, sempre nel comune di Trappeto, presso la foce del torrente Pinto. Un punto fortemente inquinato nella provincia di Trapani, a Castelvetrano, nella frazione di Marinella di Selinunte, presso lo scarico del depuratore. Tre punti fortemente inquinati anche nella provincia di Agrigento, uno nel comune di Licata, alla foce del fiume Salso, uno a Palma di Montechiaro, foce del fiume Palma e uno a Sciacca, alla foce del torrente Can Salamone. Un punto fortemente inquinato nella provincia di Catania, nel comune di Acicastello, in località Acitrezza, sul lungomare Galatea. Un punto inquinato infine anche nella provincia di Messina, a Barcellona, Pozzo di Gotto, alla foce del torrente Patrì. Ci fermiamo qui, questa era l'ultima notizia, ma ovviamente l'informazione prosegue su Sicilia 24. Grazie. Grazie.